Un uomo è stato arrestato dopo essersi arrampicato su una delle arcate del Sydney Arbor Bridge, bloccando per ore il traffico della città australiana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si sarebbe fatto portare in taxi sul ponte per poi scendere e iniziare la sua scalata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di un mediatore della polizia che lo ha convinto a scendere.